Lei, sempre durante la presentazione a Palazzo Reale, disse prima del contratto col Presidente De Laurenti, si gli ho ribadito che qui comando io, e si riferiva al veto della cessione di Di Lorenzo e di Quara. A quanto pare ha avuto ragione lei, perché Di Lorenzo ha scritto una bellissima lettera rinnovando il suo amore verso il Napoli e Quara, credo che non ci siano problemi per la sua permanenza in Azzurro. Sì, ecco, chiariamo il discorso del cui comando io, perché dell'aspetto tecnico e gestionale dei ragazzi, sicuramente io devo avere voce assoluta in capitolo, questo è chiaro. Il Presidente mi aveva promesso questo, ed è stato così, quindi... Grande merito va al club, ripeto, perché poi alla fine il club ha agito nella giusta maniera. Stavamo parlando comunque di due ragazzi, due ragazzi per bene, perché stiamo parlando di Lorenzo, che l'anno scorso si era legato a vita, no? Nel contratto con il Napoli, ecco, torniamo al discorso della grande delusione, no? Quanto può infettare poi una grande delusione? Ecco, diciamo che io sono stato un equilibratore su questo. Ho riportato equilibrio nella delusione, ho cercato di far capire che non potevamo buttare a mare anni e anni di lavoro, per di più due anni prima in cui avevamo vinto uno scudetto, e su questo ribadisco, il club è stato bravo, è stato bravo perché ha agito nella maniera giusta, ha agito come doveva agire, e di questo va dato onore al Presidente, va dato onore al club, senza girarci tanto, ecco.